Il progetto di quest'anno per l'allestimento di FTK, dello stand Elica, è suddiviso per quattro tematiche, diciamo così. Sono dei padiglioni che vogliono rappresentare contenitori di una casa che sta sospesa da terra, con il quarto padiglione dedicato a Gutmann, un marchio per il mercato tedesco del gruppo Elica. I padiglioni sono disposti come un accampamento, ma hanno delle velleità museografiche, in quanto è un po' come un concetto di percorso per un visitatore che ha un riferimento distante e un approccio per avvicinamento su altri prodotti. Il concetto generale è sempre la creatività o l'emotività, perché quando riceviamo i visitatori, una volta ogni tanto, in questi momenti fieristici, vogliamo sia stupire sia che rimanga impresso il nostro brand. I prodotti sono poi il vero contenuto di questi contenitori, che rappresentano lo stato dell'arte di un'azienda che si dà sempre da fare per stare all'avanguardia, per essere un passo davanti agli altri. Speriamo di aver raggiunto l'obiettivo sia dal punto di vista di marketing fieristico che dal punto di vista di prodotto e mercato. Grazie per la visione!